Si è conclusa a Racalmuto la tre giorni della Festa della Cultura, esposto tra l'altro un carteggio inedito tra Sciascia e l'editore La Terza. Ascoltiamo Emilio Messana e Gaetano Savatteri. Tutte le iniziative della Festa della Cultura sono legate ai 60 anni dalla nascita delle parrocchie di Regalpetra all'intera comunità di Racalmuto in festa. E' un fatto importante, storico, la ricorrenza va onorata, festeggiata. Dobbiamo chiederci tutti a che punto siamo dopo la pubblicazione di questo libro che è una pietra miliare nell'analisi della Sicilia moderna. Le parrocchie ci sono ancora, non ci sono. Noi abbiamo deciso di cominciare invitando i protagonisti di quella stagione, meglio, le vestigia, gli eredi, le famiglie, le case editrici, che hanno la casa editrice La Terza, che ha pubblicato questo libro. E' il momento importante perché segna il ritorno della Fondazione Sciascia nel panorama culturale italiano, perché le parrocchie di Regalpetra riguardano l'Italia, non riguardano soltanto la Sicilia ora, Racalmuto. E poi abbiamo sperimentato anche un modello organizzativo che penso potrà far fare tanta strada alla Fondazione. Abbiamo creato un gruppo di riferimento che si fonda sui giovani di Racalmuto. Ci siamo rivolti anche a professionisti per promuovere gli eventi. La collaborazione dei nostri intellettuali come Gaetano Savatteri e Felice Cavallaro, che fa parte anche del Consiglio di Amministrazione, e oggi siamo qui a poter dire di aver fatto, aver onorato bene la memoria di Leonardo Ciaccia. Abbiamo coinvolto anche un'altra energia di Racalmuto, che è l'industria Italcali, una delle industrie più importanti della Sicilia, che ha uno stabilimento importante a Racalmuto. E accanto a noi l'Italcali nell'onorare questa ricorrenza, e anche nel sostenere e promuovere gli eventi attraverso una sponsorizzazione molto onorevole e dignitosa. E c'è anche la scuola, perché a scuola le parrocchiere Galpetra nascono da un progetto originario, che erano le cronache scolastiche. Insomma, i protagonisti della comunità di Racalmuto, e non solo per ricordare Ciaccia e rilanciare l'immagine e il ruolo della fondazione. Un'iniziativa dall'alto contenuto culturale, alla quale non può mancare Gaetano Savatteri, che negli scorsi mesi ha già tuonato per la salvaguardia della fondazione Ciaccia, la cui sopravvivenza sembrava in bilico. Dobbiamo lottare per questa fondazione. Oggi il fatto che ci siano questi ponteggi davanti alla fondazione ci dà l'idea di qualcosa in costruzione. La fondazione, per tante ragioni, forse c'è stato un isolamento, è stata lasciata sola ed è rimasta sola rispetto al paese. Credo che con questa festa, con questo convergimento di letture, di persone che si riappropriano di Ciaccia, del libro pubblicato 60 anni fa, le parrocchiere Galpetra, si possa ripartire per far diventare la fondazione una cosa che darà a Calmuto, può parlare a tutto il mondo. Questo discorso però non si può fare se non c'è il coinvolgimento della gente. Spero e mi auguro che questa festa della cultura, della lettura, sia l'inizio di un percorso di rinascita. Oggi qui anche in veste di art director del Trame Festival, fra gli sponsor di questo evento. Sì, io sono direttore di questo festival che si svolge alla mezza eterna, dal 15 al 19 giugno, festival di libri sulle mafie. Non dimentichiamo che Ciaccia è stato uno dei primi scrittori in Italia che si è occupato di mafia, di antimafia anche naturalmente, con la famosa polemica sui professionisti dell'antimafia. Anche questo è il segno che la fondazione deve fare collaborazioni con altre istituzioni, con private, con altri festival, perché oggi come oggi i soldi non arrivano più come un tempo. Adesso bisogna delle cercare, bisogna fare iniziative, bisogna mettere insieme tante piccole energie per fare delle belle cose. Ecco, questa collaborazione con un piccolo festival calabrese, anche questo è l'inizio di un percorso di nuova collaborazione e di nuova apertura.